Siamo con Angelina Mango per fare musicmagazine.it La prima cosa che voglio dire è che questa sera dovete votare per lei tutti i nostri lettori che ci seguono dall'estero Noi abbiamo tantissimi, da Londra, dall'America e dalla Spagna soprattutto Fai un saluto ai nostri lettori dall'estero L'unica cosa che voglio dire, non voglio chiedere nulla, voglio solo dire grazie Perché io sento il supporto da casa e questo mi ricarica tantissimo Grazie mille a tutti Hai in uscita il nuovo disco che si chiama Poké Melodrama, ho detto giusto? Giustissimo Grande Ci racconti il percorso che farai a livello europeo e nei club italiani Farai prima l'Europa e poi i club, giusto? Prima i club italiani e poi i club europei Quest'estate ci scalderemo nei festival sia in Italia che in Europa Io non so cosa aspettarmi, sono molto curiosa di vivere questa esperienza Perché penso che mi darà tanto, io darò tutto Darò nuova musica, darò quello che ho creato in questo ultimo anno Che è Poké Melodrama in cui c'è tutta me stessa Tutte le sensazioni che ho vissuto Quindi un roller coaster E nelle sensazioni c'è anche la sensazione che hai quando fai fila indiana che è un pezzo che io adoro Assolutamente sì Vero? È certo Fantastico Farai anche il pezzo con Alvaro de Luna Alvaro de Luna Soprattutto Soprattutto